La prima priorità è la sanità pubblica, la stiamo raccogliendo in questo cammino per l'Ugri, andando di comune in comune anche dei più piccoli. La prima preoccupazione degli italiani, anche fuori da questa regione, è la sanità pubblica perché questa destra sta tagliando, non è un caso, è un disegno, voglio una sanità a misura del portafoglio delle persone. L'anno scorso qualche milione di mezzo di persone non sono riuscite a curarsi, non riuscite a curarsi, chi l'ha fatto ha messo il 10% di unità sua propria. Questa è la situazione, quando devi aspettare 430 giorni che entra la colonoscopia, che vai dal privato tirando fuori i soldi dalla scattura, oppure non cercare, quando la cerchiamo, difenderemo la sanità pubblica universalistica, che diamo più risorse e che effettivamente diamo più personale per abbattere la vera dell'istituzione.